Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! All'inizio vi farò vedere la prima fase, che cos'è? L'innovazione di questo gioco, che è un Tower Defense, è l'aver introdotto la meccanica dei combattimenti a turni in un Tower Defense. Quindi noi difenderemo la città nella parte notturna dell'avventura per poi andare durante il giorno, sempre con delle meccaniche a turni, a costruire e spendere le risorse che noi abbiamo accumulato vincendo con più o meno, diciamo, efficacia le battaglie della notte. La premessa è molto interessante perché vi farò vedere adesso, cercando di tradurlo, l'introduzione, perché il gioco non è in italiano. Mi scuso anche per la voce, ma sono un pochino raffreddato, niente di che, però, tanto da influenzare la voce. Guerra. Per centinaia di, per secoli, il mondo è stato sconvolto in un caos e, diciamo, disastro senza fine. Gli elfi combattevano i nani, i nani combattevano gli umani e gli orchi combattevano tutti. Ne risentiva il popolo di questa, insomma, di questa piaga. Recluso nella sua torre, ricercando magie proibite, oscure, segrete, l'arcimago Hieronymus Teller ha fatto una scoperta straordinaria. Selvaggio e sconosciute parole di potere possono scatenare tremende forze. Un rituale di distruzione di massa che è in grado di distruggere ogni città in un colpo. Una città in un colpo, insomma. Sperando nella fine della guerra, lui castò questo incantesimo su Glyndfain, un piccolo villaggio nemico. Una gigante palla oscura di fiamme viola è caduta dal cielo e ha distrutto il centro cittadino, lasciando solo rovine, corpi senza vita e fumi di ola. La famiglia reale del carigno vicino era presente questa volta, in quel momento. Sono tutti morti. Il re, pazzo di dolore, ha ordinato ai militari di ricercare questa nuova magia. La musica è stupenda, ve lo dico. Ha fatto rilasciare questo inferno sulla maggior città vicino. Boom, un'altra esplosione in sintesi. Diverse centinaia di migliaia di morti. Ogni regno è stato avvolto dalla magia viola. Il cielo era costantemente, diciamo, scintillava di esplosioni viola e fulmini erano sentiti, tuoni, sentiti e visti ogni ora. La guerra non c'era più, solo annientamento. Non c'era punto di ritorno. A un certo punto le esplosioni si fermarono e risuonò un silenzio. Una minacciosa nebbia iniziò a circondare tutte le città rimanenti. Un piccolo gruppo di sopravvissuti era rimasto, insomma. La nebbia circostante stava iniziando ad inspessirsi. Di notte dovevano difendersi questi sopravvissuti da i mostri, chiamati i Clovers. Che poi tra l'altro dovrebbero essere gli artigli, ma li chiamiamo i Clovers. Un combattente conosciuto come il comandante prese la carica. Le difese furono ricostruite e alcuni rifugi rimessero nel caos, dal caos. Molti maghi sono stati impiccati, o peggio, cercando di risolvere la situazione. Alcuni di loro, temendo per la loro vita, cercarono di trovare una risposta. E loro trovarono un modo, un incantesimo. L'ultimo incantesimo, quindi il nome del gioco dell'Astra Spella. Vabbè, loro iniziavano questi complessi rituali per pulire la corruzione del Nessor unico, insomma. L'obiettivo era semplice e abbastanza impossibile. Incanalare abbastanza energia per rompere i sigilli di magia. E bannare, mandare via, bandire tutta la magia di questo mondo per sempre. Le premesse sono assolutamente ottime. E ora il gioco sta per cominciare. Ma quando comincia la notte, terribili creature mutanti appaiono. Vengono fuori dalla nebbia per uccidere. I sopravvissuti devono solo combattere notte dopo notte e proteggere questi maghi ad ogni costo. Fino a quando l'ultimo incantesimo sarà lanciato. Va bene, il gioco inizia. Graficamente è un qualcosa di già visto. Perché mi ricordo un altro titolo, ma purtroppo avendone tantissimi portati non mi ricordo il titolo. L'avevo portato anche in live. Il bastione... Vabbè, ci sono tante cose, io ancora non lo conosco benissimo il gioco. Difendere il bastione. Quando i maghi provano a bandare tutta... Ok. Ci spiega che praticamente dobbiamo proteggere il cerchio magico notte dopo notte fino a quando i maghi saranno in grado di rompere il sigillo. Il rifugio è perso quando il cerchio magico è distrutto o tutti gli eroi sono morti. Durante il giorno, c'è la fase di deployment, nella fase del tramonto, insomma, possiamo muovere con buzzed, fare panning col tasto centrale del mouse e zoomare. Quello che dobbiamo fare è spostare i nostri eroi. Gli eroi che abbiamo sono Taristan, Abigail e Manon. Sono diversi ogni volta. Cliccando, vedete, li possiamo spostare fino a in una zona qui. Aspettate, mettiamo questo qui. Vedete che qua nel journal ci dice quello che dobbiamo fare, ci dice anche da dove arriverà l'ondata. E quindi noi siamo pronti e determiniamo la fase. O inizia il gioco vero e proprio. Ed è l'innovazione di questo titolo. Perché? Perché i nostri eroi dovranno farlo a turni. Durante la notte rispingi i mostri e usa le skill. Per esempio, ci sono le skill equipaggiate di ogni eroe, che sono diverse, e loro hanno un action point, hanno del mana e hanno i punti in movimento, che ne hanno sei. Quindi in questo caso io posso muoverle qui, consumando tutti i punti. Quindi lui potrà... Fino a quando non lancia incantesimi potrei tecnicamente revocare il movimento, da quanto ho capito. Però quello che posso fare, vedete ora, è lanciare uno di questi incantesimi. Lui ha... Vedete? Ok, qua gliel'ho demolito uno. Ci sono incantesimi anche multicolpo, che vanno a coprire questa zona. Io adesso vado a coprire due colpo. Ok. Ora, posso muoverli come voglio. Quindi io posso muovere questo qui. e ho fatto una cavolata, perché non posso più tornare indietro, dovrei essere più cauto. Però quello che lui ha, come incantesimi, vedete, sono cose anche multi... multi-area. Quindi posso fargli fare questo. Posso fargli fare anche questo, che è un multi-area ancora di più. Vediamo se colpisce anche quelli fuori. Out of range. Posso farlo così, però... I nostri non avanzano tantissimo. Posso fare ancora qualcosa? No. Non posso neanche farlo indietroggiare, quindi lo faremo il prossimo turno. Questa può fare qualcosa. Vediamo. Vedete? Fa danni a... in una zona così. Vabbè, termino il turno. Mi dice che ho ancora 8 punti. Eh, sì, sono i suoi, ma... 5, 1 e 2. No, ma li passo. Non ha senso tenerli, ma non ha senso neanche avvicinarmi troppo. Guardate quanti sono. Quando li avremo sterminati tutti, il turno finirà, e vi farò vedere l'altra parte di gioco. Ora, quello che possiamo fare adesso, eh, si rigenera il mana, si rigenera la vita ogni turno, non tantissimo, dobbiamo amministrarlo bene. Allora, iniziamo a vedere da lei. Lei potrebbe fare l'attacco così. Vedete? Questo attacco qua fa un attacco doppio, quindi se io gli faccio fare, scusate che ho un piccolo problemino, ok, allora, posso fargli fare il passo così, posso fargli fare l'attacco doppio così, vedete che e gli stermina. Poi posso fare un'altra cosa, magari con il martellone, e poi lo faccio tornare indietro, così che non abbiamo usato tutti i punti, però siamo andati cauti. Lui invece potrebbe andare a lanciare fino qui, fare il suo attacco ad area, vediamo un attimo, può fare questo, può fare questo, magari non questo, questo, no, vediamo se ha qualcosa di, ok, così, può fare ancora un colpo qui, e poi se ne torna indietro, così ci teniamo difensivi, perché i nostri, quando entrano qui, iniziaranno a distruggere varie cose, e poi vedremo che cosa si potrà fare. Allora, questo può fare un danno, però potrebbe andare avanti, così, così, vediamo se possiamo, ok, fare un danno multiplo. questo lo possiamo fare più volte, bisogna sempre fare attenzione al mana che ci rimane, ok, possiamo farlo, no, ancora una volta, no, possiamo fare un danno di questo tipo, allora facciamo così, e riportiamo il movimento indietro, ora passiamo il turno, ci dirà che ci manza qualcosa, ma chi se ne frega, e mostriamo avanzalo ancora, non sono tantissimi, calcolando che spesso hanno i punti bassi, però, intanto dobbiamo, lei, la usiamo sempre con questa tecnica qui, mannaggia ho sbagliato, vabbè, gli faccio dare una martellata a questo, non la faccio stare troppo vicino, perché verrà circondata, lui invece ha la capacità appunto di, fare questi danni ad aria così, quindi, magari, io lo faccio far così, e poi ha, questa, che mi fa fare, un po' di danni qui, vediamo se può fare dell'altro, no, e lo faccio tornare indietro, questo invece potrebbe fare, no, un danno più di questo tipo, così che limiamo anche quella zona lì, glielo faccio fare un'altra volta, e direi che possiamo fermarci qua, lo faccio indietraggiare, e finiamo il turno, sì, abbiamo ancora tanti punti, ma, adesso iniziano ad arrivare seriamente, quindi bisogna, bisogna agire, abbastanza in fretta, quando i mostri entrano nel villaggio, aumenterà anche il parametro del panico, il panico, ne resta notare in turno ancora da uccidere, quando aumenta il panico, che vedete qua sotto, più alto il panico, meno sarà alta la nostra ricompensa finale, quindi bisogna fare attenzione, a quello, allora vediamo intanto se, ok, poi lo ricommenta adesso quanto è bravo, insomma, vabbè, ok, non può più fare nient'altro, ok, questo invece può fare, spada di Damocle, può fare l'attacco multiplo, e li faccio fare, lo faccio fare ancora, perché questi sono veramente vicini, non mi ricordo se, manca lei, e lei è un rischio mandarla giù, quindi al momento non gli faccio fare niente, perché lei fa solo cose molto avvicinate, quindi non attaccherà in questo turno, mi dispiace, non conserva neanche cose, eccessi, ok, questo è perfetto, perché adesso ci stanno attaccando, e ci hanno attaccato infatti, e stanno attaccando anche le strutture, quindi facciamo questo, gli faccio fare un passo di qua, e gli faccio fare questo di qua, lo stomp di là, e basta credo, forse, faccio fare un passo qui, e gli faccio dare una botta anche lì, e ve la faccio tornare indietro, lui, tecnicamente, non può, è finito il mana lui? No, dovrebbe forse fare due passi indietro, per, vabbè, non può lanciarlo, perché ha il mana finito, ok, niente da fare, gli faccio attaccare con questo, e faccio far solo, punti azione normali, e gli faccio sfruttare tutti, basta, e manca l'altra, adesso, che può muoversi tanto, quindi vi faccio fare, un po' di cose, è troppo vicino, mannaggia, vi faccio fare, la spada di Damocle, su questi, ma non può, il pugno, ok, muoviti indietro, vediamo se puoi fare la spada, adesso si, anche questo, basta, passiamo il turno, questa aveva sfruttato bene, questo turno, e purtroppo faranno danni, facendo salire un po' il panico, ma adesso sono tutti belli raggruppati, quindi magari, se lui ha ricaricato un po' di mana, no, mannaggia, lei potrebbe dare, un vantaggio, con, physical damage, chi è che dava, questo, mi dà, a lui, vabbè, facciamo un po' di, devi fare due passi indietro, ancora, ok, tu puoi fare qualcosa, no, puoi fare il power shot, però devi fare un paio di passi avanti, e questo, magari lo attacchi lui, questo, attacchi questo, e poi avremo, il processo di, livellamento, dei nostri eroi, e lei potrebbe andare, a spostarsi, qui, così il prossimo turno, attacca, dai, passiamo il turno, tanto questo sarà, probabilmente, l'ultimo turno, se si mettono, eh sì, ci ha fatto male, molto male, ci ha fatto, allora, intanto questo, va qui, allora lei, mannaggia, non può, lo faccio muovere qui, e gli faccio fare, questo, caso, questo l'ha mancato, però, però se io la mettessi qui, gli faccio fare il doppio di là, e la finiamo lì, non è morto ancora, mattellone, ok, ok, tecnicamente è finita, e qua abbiamo, l'esperienza, quanti ne abbiamo uccisi, il livello, quanti morti abbiamo avuto, niente, abbiamo perso un po' di HP, e vedete poi la valutazione, con i relativi materiali e item, che noi abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto un buon punteggio, sapevo già giocare, insomma, un pochino l'avevo già, il prossimo turno, ci attaccheranno da un'altra parte, e al momento, probabilmente arriverà dall'alto, durante il giorno, puoi ricostruire il rifugio, o potenziare i tuoi eroi, e segui quello che dice il journal, qua, il diario, l'oro è usato per le costruzioni, e per acquistare equipaggiamento, mentre i materiali sono usati per le difese, i lavoratori sono usati per attivare le abilità, di alcuni edifici, che si ripristinano ogni giorno, quindi noi prima di cosa, andiamo a vedere il livellamento, abbiamo il primario e il secondario tributo, dei tuoi eroi, quindi possiamo andare, vedete adesso iniziamo da Abigail, abbiamo il level up, possiamo potenziare il primario, quindi più danno, o più block, io gli potenzio il danno, confermo, e adesso il secondario, possiamo scegliere uno, skill range a zero, healing received, per potenziare, facciamo skill range, modificatori delle skill di più uno, ok, e qua abbiamo tutto quello che c'è, poi abbiamo, qua va bene, il city stash, praticamente tutto quello che abbiamo all'interno di, per quanto riguarda l'equipaggiamento che otteniamo, e basta, non, questi sono tutti i dati, abbiamo i perk, possiamo scegliere uno, per quanto riguarda, vari tipi di armi, possiamo fare manager row, qua possiamo fare fatality, e vedete che io faccio train, e spendo il punto, adesso passiamo all'eroe dopo, vedete tutti i suoi parametri che vedete qui, level up, tristan, che è il lacere, gli faccio accuracy, quindi gli faccio fare, maggior precisione, e poi opportunismo, che è quello raro, come, questi vanno a caso, come, io gli do questo, perché è, ehm, un'opportunità che non si presenta molto spesso, e poi gli do steady aim, più 10 accuracy, perfetto, potenzia anche lui, e poi andiamo avanti, e lei, invece, eh, l'attacca con, una bacchetta, gli potrei dargli, non lo so, onestamente, fatality, eh, più uno dei limiti, a settimana, dai, eh, come perk, mentre invece, il level up, gli do, questa, resistance, vabbè, sì, per resistere più i colpi, e poi gli do, poison damage, 100, perfetto, e abbiamo potenziato anche lei, poi, abbiamo gli item disponibili, ottenuti durante la notte, abbiamo ottenuto un nuovo item, che è, scegliebile, con, con, main, coif, la, la, cotta, insomma, sulla testa, novice wand, lei, vedete che potete paragonare, con, il personaggio che volete, questa, è una novice wand, che fa meno danno, di quello che ha già, quindi direi di no, anche se è rara, gli da più 7 isolation, e più 5 mana, però fa meno danno, di quella lì, l'arco invece, potrebbe essere, per lui, interessante, e infatti fa più danno, e scegliamo questo, e confermo, quindi posso andare, a prendere lui, e vedere, vediamo un attimo se, con lui posso, è un tratto idiota, ok, bene, ok, Tristan, adesso equipaggia l'arco nuovo, ok, potevo, si trascinarlo, cliccare col destro, lui va a equipaggiarlo, insomma, ok, ora, costruisci nuove strutture, possiamo costruire, al momento, niente di questo, perché probabilmente, ci mancano i soldi, però possiamo fare il mana, well, e aumenta il mana, e vado a posizionarlo, ovviamente adesso attaccheranno, probabilmente da questa zona qui, quindi io la piazzo, al momento qui, sperando non arrivino lì, abbiamo fatto il pozzo di mana, questo mi ricorda un pochino, anche Age of Wonder, ora, queste nuove strutture, non ne abbiamo, possiamo costruire, le difese, le difese, sono queste al momento, e andiamo a consumare, i materiali, abbiamo 100 materiali, e 70 monete, e anche i lavoratori, quindi in questo caso, possiamo andare a, costruire, solo qua, quindi possiamo chiudere, un'entrata, ma non ha senso, io li farei questa, chiuderei qui, e chiuderei qui, quindi creerei solo un'entrata qua, prima siamo usciti da entrambe, adesso usciremo solo da un lato, mentre, edifici con azioni gratuite, quindi abbiamo, praticamente, la possibilità, vabbè, qua abbiamo, la possibilità di usare, lavoratori, uno e uno, per produrre, otto mana a tutti gli eroi, o sei mana a, un eroe solo, io spendo un lavoratore, perché adesso ne ho solo uno su due, e invece, qua abbiamo un upgrade, upgrade, benedition, mana 12, da 6 a 12, di recupero, spendendo 30 monete, lo faccio, upgrade, della zona, e poi, usiamo, un lavoratore, zero lavoratori, questa è una zona gratuita, più 6 mana, ha un target, io, non saprei a chi darlo, ma lo diamo a lui, e ha un regen, di 6 di mana, più i 12 qua, che abbiamo espanso, abbiamo consumato, tutti i lavoratori, abbiamo consumato, vabbè, i materiali ne abbiamo ancora, possiamo costruire ancora, ma al momento non ha senso, e vediamo che, la, l'ondata arriva ancora da qui, nella mia precedente partita, invece, la seconda arrivava da questa, al momento, poi arriverà, si espanderà anche questa, zona qui, e attaccheranno anche da questa parte, e di qua, calcolate che, potremmo pensare, di iniziare già a piazzargli, una parete, magari una chiusura così, e anche da questa, ma i materiali sono, permente finiti, e così, allora, The Last Spell, è questo, perché ora, passiamo il turno, e, ci dicono che abbiamo ancora, una free action, disponibile, però non me la fa usare, non so perché, e, torniamo nella notte, con l'assalto, nuovamente, da questa parte, insomma, quindi andremo a, posizionare i nostri, i nostri eroi, in questo caso, li possiamo mettere, già così, come vogliamo, e inizierà un'altra fase, è interessante, l'upgrade, bisogna vedere quanto, è ovviamente ampio, ma, questo video, è per darvi un'idea, di quello che è, The Last Spell, l'inglese proibitivo, assolutamente no, c'è la storia, è vero, però, le meccaniche, basta leggere, bisogna impegnarsi un pochino, e, però, questa è la meccanica, poi bisogna vedere, come ho detto, quanto andare in profondità, però, se siete delle passionate, di Tower Defense, o comunque la meccanica vi piace, avrete anche piacere, a scoprire quanto, il gioco profondo, non costa poco, può valerli, è uscito da poco, quindi dubito scendere di prezzo, se siete appassionati, a livello grafico, è molto bello, il gioco ha delle buone recensioni, su Steam, quindi, insomma, pensateci, ma per intanto, fatemi sapere, che cosa ne pensate, qua sotto, nei commenti, alla prossima, e ciao ciao!